Ciao. Allora, Serena ha 20 anni, è di Siracusa, la più piccola di tre figli, studia la danza da quando aveva tre anni, ha studiato danza classica, moderna e pop. Ha 16 anni, ha lasciato il terattore dell'Opera di Roma per poi in familiare e sei tornata a Siracusa. Il suo sogno è diventare una ballerina professionista, so che hai preparato un pezzo che... E lo vediamo. Lei ti piace perché Alessandra? Mi piace perché la trova una ballerina completa, versatile e giovane, come tutti gli altri ragazzi, quindi ha tutta la sua strada da fare. È entrata in punta di piedi con tanta umiltà e sensibilità nella scuola più ambita dai giovani talenti. Poco più che maggiorenne, infatti, è già riuscita ad esordire sul piccolo schermo, ballando uno spettacolare passo a due sul palcoscenico di Domenica Inn. Celebre programma di Casa Rai 1, successivamente, forte del successo ottenuto, partecipa anche al programma Sicilia Cabaret, trasmesso su Rai 2. Serena Marchesi, inoltre, ha avuto anche la possibilità di ballare in un concerto di uno dei tenori più famosi al mondo, ovvero Andrea Bocelli. Tra le tante caratteristiche di questa meravigliosa ballerina, un dettaglio che ha lasciato stupiti tutti è per aver fatto breccia nel cuore della maestra più temuta, Alessandra Celentano, che ha apprezzato la sua versatilità, abilità molto importante per un ballerino. Vorrei chiedere ufficialmente alla produzione un banco per questa ragazza. L'insegnante ha perciò chiesto alla redazione se potesse ammetterla nella scuola, istituendo un banchetto ad hoc per lei, senza la necessità di una sfida. La redazione le ha però detto che ne avrebbe dovuto parlare con il resto della classe, e così ha fatto. Si è messo ai voti, ma la Celentano potrebbe sempre cambiare idea. L'unica certezza è che nel caso di un'eventuale sfida si scontrerà contro Martina o Rosa, entrambe ballerine della Cuccarini. Data la situazione, le tre ballerine si preparano alla sfida. In caso di sfida con Martina ci sarà una coreografia latina. Quest'ultima è una categoria di danza che Serena non ha mai studiato, ma gli insegnanti Umberto e Francesca sono già entusiasti di lavorare con lei. In caso di sfida con Rosa di Grazia, entrambe hanno pane per i loro denti, ballando una coreografia moderna. Intanto la giovane Serena ha fatto il suo ingresso nella casetta, dove da mesi stanno gli altri ragazzi. La ragazza è stata accolta con freddezza dai suoi coinquilini, uno scenario che si sarebbe potuto evitare. Ma si sa, il male peggiore della nostra società non è altro che l'invidia e la rivalità che si teme di continuo con il prossimo. Serena è tosta, come ballerina e come persona, scrivono i suoi amici. I siracusani sono fieri di lei, così come lo è la famiglia marchese, che la sostiene e la incita a non smettere mai di sognare. Una cosa è certa, per Serena è solo l'inizio.